lanciato da Confindustria al servizio di Anna Testa. I finanziamenti pubblici previsti nel decreto sblocca Italia sono orientati prevalentemente in favore del centro nord. Su una quota di circa 7 miliardi di euro, solo il 19% è destinato alle regioni meridionali. In pratica meno del 33% che rappresenta il rapporto all'Italia, la popolazione delle otto regioni del sud. Meno del 40% della superficie del territorio, meno del 24% di tasse che versano i contribuenti meridionali. Il grido d'allarme è stato lanciato nell'assise di Confindustria in occasione del 29esimo convegno di Capri per Napoli. Esistono grossi progetti in Campania da avviare in tempi brevi, i prioritari rispetto agli altri, è stato detto. C'è Pompei, grande giacimento culturale da valorizzare, il porto di Napoli con le opere per il dragaggio, bagnoli ed i campi flegrei. A condensare il senso di dati è il rapporto Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, che parla di sud fermo, che continua a perdere competitività in maniera drammatica.